My name is Giulia Sapino and I'm from Italy. My name is Monica and I'm Giulia's mom. La ginnastica ritmica mi ha insegnato a prenderti cura di te stessa e lanciare l'attrezzo. Dunque della ginnastica ritmica adoro vedere queste bambine, anche molto piccole, impegnarsi al massimo per raggiungere i loro obiettivi e soprattutto sono molto belle ed eleganti. Ciò che consiglio ai genitori è di ascoltare le proprie bambine e le proprie figlie e lasciarle esprimere al meglio e poi soprattutto affidarsi a figure professionali. Scegli Dugim Orgy perché a Dugim Orgy hai coach professionali e ti insegnano tante cose come il pancè pirouette e una delle cose che ti insegnano è di prendere cura di te stessa e altri quando gli serve. Grazie a tutti.